Con piacere ci troviamo quest'oggi qui in questo luogo particolarmente bello dedicato alla Madonna, all'Oasi di Santa Maria del Piano e in questa occasione vengono qui presentati questi piatti della nostra comunità di Episcopia. Con piacere davvero ho accolto l'invito e quindi a partecipare da parte del Sindaco e delle altre autorità. Da quando sono qui, tra l'altro, anche ad Episcopia sto apprezzando non solo la fede, la cultura, la spiritualità anche la cultura gastronomica. È una cosa bella perché unisce non solo la comunità magari di Episcopia ma tante altre comunità come ad esempio quella del mio paese di origine, San Severino. Ci sono tanti prodotti in comune e questo vuol dire proprio, ripeto, non soltanto il sentirsi parte di un piccolo centro ma di una comunità anche ancora più allargata. Allora, io ringrazio innanzitutto Domenico Cervino dell'Alsia che è stato subito pronto ad accettare il nostro invito come comunità di Episcopia per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici nel caso specifico la Tapanedda che è un prodotto fatto col pane di carosella e con una praticamente frittata a base di prodotti tipici non solo di Episcopia ma dei paesi limitrofi e i Rescatielli sempre con farina di carosella con la mollica che sono un altro piatto tradizionale. Entrambi i piatti oggetto di due sagre molto affollate durante il periodo estivo. Questa attenzione che l'Alsia ci ha riservato è ovviamente che ha subito trovato concorde nella valorizzazione di questi prodotti tutte le altre istituzioni del paese in primis la parrocchia che ci ospita in questa bellissima oase di spiritualità di Santa Maria del Piano ma poi soprattutto le associazioni presenti sul territorio Epicanto in modo particolare che sta curando tutta la parte storica della valorizzazione del prodotto e la Proloco che con i ragazzi sempre molto attivi li divulga durante il periodo estivo con due sagre molto importanti. Dicevo, grazie a questa operazione sinergica vogliamo portare queste tipicità del nostro paese alla ribalta prima regionale e vediamo con l'aiuto dell'Alsia eventualmente se riusciremo ad avere una tipicità di tipo e di livello anche nazionale perché sono prodotti che meritano e soprattutto perché il turismo e l'agricoltura biologica sono due settori molto importanti in questo momento in un'economia molto in affanno sia quella della nostra area che purtroppo quella a livello nazionale che ci potrebbero dare una bellissima spinta turistica e promozionale l'augurio nostro è questo quindi ringraziamo in modo particolare ripeto tutti coloro i quali ci stanno aiutando in questo percorso che potrebbe essere molto virtuoso per Episcopia e adesso ci spiegherà il dottor Cerbino quello che è l'intervento dell'Alsia in questo settore Intanto ringrazio il sindaco per aver coinvolto l'agenzia in questa attività di valorizzazione di questi prodotti tipici locali noi come agenzia sono ormai un bel po' di anni che stiamo lavorando non solo per monitorare, censire la biodiversità agricola ma in particolare questi piatti queste produzioni tipiche che sono poi l'espressione della stessa biodiversità agricola quindi questo invito del sindaco di voler valorizzare questi due prodotti per noi diventa molto interessante non solo ai fini del censimento di queste produzioni da inserire nell'elenco regionale e nazionale delle produzioni tradizionali ma soprattutto farle diventare un'opportunità anche per il territorio perché intorno a queste attività si possono creare tutte quelle sinergie tra produttori e imprese per la creazione di una filiera e quindi un'occasione economica di sviluppo per il territorio Una breve introduzione forse conviene farla noi stiamo presentando dei prodotti che rappresentano la tipicità proprio del Parco del Pollino e di questa zona e mi sento di dire che questi prodotti vanno valorizzati al massimo anche perché chi viene, soprattutto i visitatori hanno bisogno proprio di conoscere ciò che questa terra ha prodotto e riesce ancora a produrre quindi tutti i prodotti che vediamo sono stati elaborati con farina tipica del posto che è una farina di grano duro che si chiama carosello e c'era pure il cappello nelle zone più alte questa farina per esempio è servita anche a fare questo pane dove è stata depositata una frittata con peperoni e salsiccia il nome classico di questo pane si chiama tapaned che significa un pane che è stato trapanato, cioè bucato e dove si è poggiato questa frittata molto calda e poi si è coperto tutto veniva avvolto in un canovaccio che si chiamava è uno strofinaccio che riusciva a mantenere il sapore e anche la fragranza del cibo i contadini della zona, i mietitori andavano la mattina in campagna con questo pane legato e posto nella bisaccia e serviva come piatto unico per alimentarli durante tutta la giornata poi abbiamo i cavatelli, i rascati nel gergo anche questi fatti rigorosamente con farina di grano duro il carosello è il segreto per non farli scuocere quello di imbastarle con acqua calda questi venivano conditi con del sugo di pomodoro fresco e in più veniva messo al posto sopra una mollica di pane che era stata prima fritta in una padella, rosolata più che fritta in una padella con poco olio una variante di questo piatto era fatta senza sugo e con la polvere di peperone soffritta nell'olio qui abbiamo dei dolci, anche questi sono dolci tipici i cosiddetti panzerotti sono dei dolcetti ripieni di farina di castagna imbastato con miele e poco zucchero una variante a queste erano i ceci che usavano già i monaci basiliani nella loro cucina questa è una crostata che è stata fatta con delle more raccolte sul pollino passiamo adesso ai salumi è un piatto forte quello dei salumi e della zona qui ci troviamo di fronte ad un affettato di prosciutto salsiccia e sopersata tipicamente della zona è curata nei locali che tutte le famiglie d'un tempo tenevano apposta per la cura del salame la stagionatura del salame questo è formaggio sempre proveniente da episcopia pecorino e caprino caprino soprattutto della contrata masonaro è una frittata questa con i funghi raccolti nella zona perché la zona è ricca di funghi soprattutto porcini, ovuli, gallinaci ma anche funghi meno prestigiosi ma saporiti e in più è una zona nella zona contrata dei mani altre zone si sta trovando anche del tartufo nero e bianco questo è il pane fatto sempre con la famosa farina di carosello e quello è una focaccina farcita è un altro piatto di salame formaggio e per ultimo c'è il vino il vino qua è aglianico però c'è del buon vino anche nella nostra zona il vino più famoso che abbiamo è l'Epeo di Roccanova adesso questa è la mollica di pane che è stata rosolata in una padella con poco olio e poi è stata aggiunta della polvere di peperoni il peperone di senise che le dà questo colore qui il peperone è stato aggiunto a scaglie anche e con questo si condisce il piatto di pasta i cavatelli, i rascatiedi i rascatiedi li troviamo ancora qui e aspettiamo solo adesso a gustarli buon appetito a tutti